Che stile! Elio per me è un mito, un mito. È una persona mega competente. Perché è un musicista spaziale, un musicista proprio con la M maiuscola. Se ti chiedo il tuo giudice preferito... Elio! Elio! È col naso! Voglio dire una cosa che non sanno tutti. Che quando con gli altri di Elio Estorietese abbiamo composto questo brano, La terra dei cacchi, sognavamo che un giorno ci fosse qualcuno che la eseguisse con l'armonica col naso. E' visto, si arriva a Dio. Ma pensavamo che fosse una cosa impossibile. E invece è accaduto! Credete nei vostri sogni! E' un sì. Sì!